Un hub agroalimentare nel luogo in cui doveva sorgere l'interporto di Battipaglia è quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato da Consorzio Asi e Provincia di Salerno nella giornata di ieri. A spiegare i dettagli dell'accordo il Presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti. L'obiettivo di buonsenso, sul quale anche la sindaca francese è d'accordo, è tentare di creare tutte le condizioni possibili per ammagliare questi due comparti che oggi dialogano tra di loro soltanto in virtù dell'iniziativa di qualche imprenditore privato particolarmente accorto. La creazione di un'infrastruttura che possa mettere insieme queste due realtà e determinarne un volano alla crescita nella logica delle politiche regionali che hanno collocato a Battipaglia l'area di crisi complessa, hanno collocato a Battipaglia la zona economica speciale, fanno rientrare Battipaglia come il naturale retroporto e retroaeroporto di quelli che è il sistema della logistica e della comunicazione commerciale che verrà a venire, rendono quell'area di valenza generale. L'importanza dell'area interportuale o della riprogrammata area interportuale di Battipaglia va ben al di là di Battipaglia. È l'area sulla quale ci sono grosse attenzioni in una logica di aria vasta, come già è stato accennato ieri, perché è innegabile che la provincia di Salerno si caratterizza per delle peculiarità che tutti insieme formano il sistema economico, quindi Salerno capoluogo, città ormai turistica, di grande attrazione culturale e sociale, centro di ubicazione dei tribunali e di varie strutture, il nord della provincia con delle caratterizzazioni specifiche sull'agroindustria, la valle dell'Irno e l'area della Piana del Sele e della Porta del Cilento che mette insieme un po' tutte le specificità della provincia e sicuramente l'area con le maggiori potenzialità. Quali sono i tempi di attuazione secondo lei? Proprio perché il progetto sarà umile ma non modesto, ma calato nella realtà, ci auguriamo molto rapidi. Già da oggi ci attiveremo con il Comune di Battipaglia e con gli altri soggetti coinvolti per allestire e attrezzare una progettazione che possa riguardare quelle che sono le residue porzioni destinate ad Interport. Per tutte le altre aree invece ci sarà una restituzione a quella che è la vocazione industriale e quindi con l'auspicio che approfittando dell'area di crisi, approfittando della zessa, approfittando della particolare collocazione, approfittando dell'impegno che il Comune, l'Asi, la provincia e la regione ci stanno mettendo sul porto, sull'aeroporto e in generale su tutti i sistemi e le aree produttive, qualche imprenditore privato decida di insediarsi o qualche azienda già esistente decida di ampliarsi. Quindi i tempi, ci auguriamo, siano brevi. Occorrerà a quel punto soltanto decidere chi sarà il soggetto che realizzerà questa nuova struttura. Diciamo che siamo saliti sulla nave, non sappiamo dove arriveremo, ma sicuramente il viaggio sarà un viaggio importante, un viaggio significativo.